ciao a tutti oggi pesto alla genovese basilico fresco 300 grammi questo il mio coltivato nel mio orto utilizzerò per frullare il tutto una macchina elettrica la tradizione però vengo usato il classico mortaio ma per tempo io userò la macchina elettrica 300 grammi di basilico 300 ml di olio d'oliva 140 grammi di grana 180 di pecorino 180 grammi di pinoli 9 spicchi d'aglio due cucchiaini e mezzo di sale e che bello adesso frulliamo il tutto ecco qui ho frullato il tutto guardate che meraviglia e che profumo conserverò il tutto per una settimana in frigorifero 45 giorni dopo un barattolino oppure perché no un buon piatto di pasta